Come commenta la decisione su AstraZeneca? Attesa è chiaramente positiva, si può ripartire con la campagna vaccinale in sicurezza. È chiaramente stato uno stop legato ad alcuni casi di tromboembolia che sono stati osservati, ma il numero era estremamente sigo, quindi assolutamente vantaggi per il vaccino, sicurezza per il vaccino, si deve ripartire quanto prima.